Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata 50 sfumature di Green, andiamo inevitabilmente su quello che sono i fatti di oggi, i fatti degli ultimi giorni, dell'attualità relativi all'inquinamento, ormai è un dato fatto, insomma per certo quello che dal 2035 non verranno più prodotti motori endotermici, bus dal 2030, questo per contrastare i livelli di CO2 che vengono innalzati e tutto un solo smog che c'è appunto in questi giorni. Andiamo a parlare con Andrea Poggio, responsabile mobilità di Lecambiente, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti voi. E allora per fare il punto della situazione di questo periodo, di questi anni, Lecambiente ci continua a fornire dei dati allarmanti, a dire la verità, per quanto riguarda anche la situazione delle città italiane dove il livello appunto di CO2 continua a crescere. Noi sappiamo che uno degli obiettivi dell'agenda 2030 è combattere ovviamente lo smog, abbassare i livelli, però lo dice la parola stessa, il 2030 che è dietro l'angolo, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare già in questi periodi, in questi tempi. E allora il Parlamento europeo appunto ha dato il via libera, c'è tutto un settore, quello dell'automotive che deve essere necessariamente cambiato a fronte di una miglioria, questo si spera, delle condizioni di vita perché quell'aria che respiriamo è salute e quindi ne va dei nostri benefici. Andiamo a vedere allora il servizio con una serie di dati e di numeri, poi ne raccommentiamo insieme. 2022 per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili, PM10, PM2,5 e di biossido di azoto, queste città hanno di fatto doppiato il numero di sforamenti consentiti, un problema per il presente e soprattutto un'ipoteca per il futuro in vista dei nuovi limiti imposti al 2030. Se infatti sempre per il PM10 l'analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna di esse abbia superato il limite previsto dalla normativa vigente, secondo i limiti indicati al 2030 sarebbero infatti solo 23 su 95 le città che non hanno superato la soglia indicata per quella data. In dettaglio le città che devono impegnarsi di più sono Torino e Milano, Cremona, Andria e Alessandria per il PM10. La tendenza di decrescita dell'inquinamento è troppo lenta, esponendo le città a nuovi rischi sanitari e sanzioni spiega Lengambiente che sottolinea come le città più distanti dall'obiettivo per il PM10 dovrebbero ridurre le proprie concentrazioni tra il 30% e il 43% entro i prossimi sette anni, ma stando agli attuali trend di riduzione registrati negli ultimi dieci anni potrebbero impiegare mediamente altri 17 anni per raggiungere l'obiettivo. Allora Poggio, la situazione è a dir poco allarmante? Dipende da che parte la guardiamo, se la guardiamo dalla parte dei nostri polmoni di 20, 30, 40 anni fa l'aria è sicuramente migliorata e quindi questo ci dà speranza di poter imprimere la svolta definitiva per ridurre quasi a zero l'inquinamento. Se la guardiamo dal punto di vista dei polmoni dei nostri figli e dei nostri nipoti è molto preoccupante perché soprattutto negli ultimi anni a causa dell'esaurimento dei miglioramenti tecnologici possibili nei motori a benzina diesel piuttosto che nelle caldaie a metano non si fa abbastanza. I nostri figli rimarranno inquinati ancora per 15 anni almeno perché fino adesso noi ci siamo concentrati su dei limiti vecchi, quelli del 2005 fissati a livello europeo, che ci hanno consentito di andare avanti a inquinare in tutti questi anni. Abbiamo fatto le cose a rilento come Italia perché abbiamo delle automobili molto vecchie, abbiamo ancora dei riscaldamenti troppo spreconi e adesso siamo arrivati un po' al dunque. I limiti cominciano a avvicinarsi ai limiti sanitari indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi riguardano la nostra salute. Noi abbiamo diritto, questa è la linea di pensiero delle nuove direttive europee, noi abbiamo diritto ai cittadini europei con gli stessi polmoni di respirare l'aria meno inquinata in tutta Europa. Non possiamo fare l'eccezione con l'Italia. Dico questo perché subito si è scatenato nella politica italiana l'affetto che è l'emiero. L'Europa ce l'ha su con noi perché ci impone dei limiti severi. Ma scusate, stiamo difendendo i nostri polmoni. L'Europa in questo caso si mette dalla parte dei nostri polmoni. Perché noi italiani dovremmo essere più inquinati degli altri a causa di un'industria un po' arretrata e di governi che non hanno cominciato a fare il loro mestiere qualche anno fa? Guardi, Poggio, le dico una cosa adesso senza fare un po' di etologia, ma in questa trasmissione a inizio di settembre, lo sa benissimo, eravamo in campagna elettorale, si è votato il 25, no? In questa trasmissione abbiamo dedicato due puntate a quello che sono stati, appunto parlo al passato, i programmi politici della campagna elettorale e in merito a questo, dei vari programmi, i punti green. Io le posso dire che alcuni partiti avevano poco o niente di green all'interno dei programmi, i punti erano veramente minimi, il minimo sindacale. Questo cosa vuol dire? Adesso senza andare a dire centrodestra o centrosinistra, lo sappiamo benissimo, dentro centrosinistra c'è anche una parte che è dedicata molto anche ai verdi e quindi viene da sé poter capire quale potrebbe essere l'ala. Ecco, io penso che al di là delle fazioni, dei colori, di centro di qua o di centro di là, ci debba essere la salute dei cittadini, la salute delle persone, quindi ci debba essere il buon senso da parte dei governi, di tutte le stazioni, capire che oggi non si risolve mettendo un monopartino, perché l'abbiamo visto, alcune città sono impossibili, io le posso dire, viviamo a Roma, adesso a Milano forse la situazione penso sia migliore, sicuramente sono state fatte, saranno fatte delle riciclabili in più, però io l'ho preso il monopartino a Roma, nella capitale, è pericolosissimo, è pericolosissimo, uno perché non ci sono le vie dedicate, le sezioni dedicate, quindi praticamente le corsie preferenziali, due perché ci sono i sanpietrini, tre perché il traffico incombe, quattro perché non possiamo andare sui marciapiedi, poi vedete come sono parcheggiati, sui marciapiedi perché ovviamente sono dedicati ai pedoni, quindi c'è un'impossibilità da parte anche della struttura, della città di poter andare con i monopartini e non è la panacea di tutti i mali, bisogna fare una politica sicuramente più oculata. ora le chiedo, che vuol dire da parte dell'Europa dare, no, sbattere il pugno sul tavolo e dire basta, basta motori endotermici dal 2035, una presa in posizione forte, ovviamente c'è un mercato dell'auto che ne risente, che deve necessariamente cambiare e le cause produttrici che insomma non hanno proprio visto di buon occhio, diciamo così questo emendamento, questa direttiva. Allora, l'ugine da me difendere l'Europa piuttosto che questa, quella fazione politica, non mi interessa, dico soltanto che dobbiamo essere più informati anche dei nostri politici, anche dalle nostre imprese, per capire che cosa succede. Guardate, l'Europa non ha deciso improvvisamente il 2035 come data di fine delle vendite delle auto diesel e benzina, per il 2030 per quanto riguarda gli autobus che sono già in alcune città, in gran parte elettrici, Milano ha già una flotta di oltre 200 autobus completamente elettrici che non hanno più il motore diesel e vi assicuro che si viaggia meglio, se non altro con meno rumore, oltre che meno inquinamento. Questa discussione è iniziata in Europa 5 anni fa e alla fine la proposta del 2035 è una sorta di via di mezzo che privilegia già le case automobilistiche che hanno chiesto più anni, si andava da cale automobilistiche che hanno chiesto il 2030 a quella che hanno chiesto il 2037 ed è l'industria che dice dateci una regola certa per tutti, perché chi fa un'auto la fa per tutta Europa, non è che può farla per ogni regione d'Italia che si mette in testa di avere delle, ogni città d'Italia che si mette in testa di avere delle regole diverse per l'inquinamento. Stupisce che dei nostri politici che sono lì pagati lautamente in Europa a fare i parlamentari e talvolta anche quelli che sono dentro le commissioni, cascano dal pero all'ultimo momento dopo 4 anni di discussione a dire noi non eravamo d'accordo. Guardate che si fa brutta figura, perché in tutta Europa solo l'Italia, che è una parte degli italiani che votano contro, si capisce che non hanno capito che cosa è successo in tutti questi anni e soprattutto hanno informato male la popolazione italiana. Noi abbiamo dato degli incentivi ancora per cambiarci auto inquinanti benzina diesel, mentre tutta Europa ormai da anni, ma guardate anche l'Europa Cipro, Romania, non sto parlando... 27 paesi membri, quindi... Esatto, anche questi non danno più incentivi per l'auto, benzina, diesel, noi facciamo quelli che cascano dal pero e intanto l'industria italiana, che nessuno ha aiutato a convertirsi, è stata indietro. Noi eravamo il secondo produttore di automobili in Europa, adesso siamo l'ottavo. Questo è diverso anche dalla crisi della Fiat che è stata inglobata dopo dal gruppo Chrysler e adesso dal gruppo Stellantis, dove dentro c'è un po' di tutto, pure Peugeot e altre case automobilistiche non italiane. Ma quanti soldi il governo italiano ha dato? Delle nostre tasse ha dato alla Fiat per aprire stabilimenti in tutta Italia e adesso quanti soldi stiamo dando per la cassa integrazione dei lavoratori Fiat? E quanti soldi abbiamo dato per i bonus auto vecchi, benzina, diesel, neanche prodotti in Italia? E ora di finire di sperparare il denaro pubblico mentre gli italiani si impoveriscono. Ricordo a tutti che le auto oggi si comprano, prezzo medio d'acquisto, 10 mila Euro più di quanto costavano mediamente 15 anni fa. Nel frattempo i salari degli italiani non sono cresciuti dal 1990. Vedo un po' di dati, Poggio, di una azienda leader nella consulenza strategica che è Aritee. Un italiano su cinque si dice pronto ad acquistare la prossima vettura con un'alimentazione elettrica. A patto di pagarla meno di 30 mila Euro. A guidare l'interesse verso queste auto sono soprattutto le ragioni economiche. 63% motiva le scelte come possibili risparmi legati ai minori consumi, più bassi i costi di manutenzione del veicolo. Ovviamente no, non ha il motore, cioè meglio non ha tutta quella parte endotermica e sono veramente tanti. Poi, quindi, c'è un discorso legato, poco più di un tipistato sul cinque, il 22% afferma che la sua prossima vettura sarà elettrica. Una percentuale praticamente doppia, il 44% è intenzionata concretamente ad affidarsi al libido e tutte le sue forme. Solo il 23% del campione sceglierà nuovamente un motore endotermico e il 9% di questo 23% è diesel. Il 63% di quanti dichiarano che la propria vettura sarà alla spina, giustifica la decisione con ragioni economiche connesse ai risparmi che il consente dei costi di consumo. Questo che vuol dire che ancora oggi l'elettrico non è proprio molto economico. C'è un problema legato alle centraline, legato anche ai tempi di ricarica delle stesse batterie che sono molto lunghi. Insomma, ci sono tante problematiche ancora legate a questo elettrico puro. Poi le do anche altro dato, poi ovviamente lascio rispondere. Una vettura su quattro è a noleggio. Nel 2022 indecisa crescita le immatricolazioni del noleggio a lungo termine grazie alla spinta dei privati. Nel 2022 il settore del noleggio dei veicoli ha immatricolato 365 mila vetture, 28% del totale immatricolazioni registrate da un mercato automobil indeciso calo rispetto al 2021. Quindi praticamente noi abbiamo un calo delle immatricolazioni e un aumento dei veicoli a noleggio a lungo termine. La quota è al 30% delle e-car, quindi le elettriche, e il 56% delle ibride plug-in. E poi insomma, questo ribadisce anche il settore dopo aver stato superato il 25% del mercato, è proiettato verso il 30% delle immatricolazioni, qua dice che insomma il 2023 sarà in ripresa. Però, ecco, insomma sull'elettrico abbiamo ancora dei dubbi sul totale elettrico o no? Ma soprattutto abbiamo dei dubbi in Italia, dove il mercato è stato volutamente tenuto in arretrato, talmente in arretrato che siamo passati dal secondo mercato europeo di vendita dell'automobile al quarto posto. Siamo ancora poco prima degli spagnoli che sono meno di noi. stiamo perdendo punti. Questo potrebbe essere persino una buona notizia se l'Italia investisse in trasporto alternativo. Diceva lei bene prima, le città stanno incominciando forse il problema che non possono più governare l'invasione delle auto e che quindi dobbiamo tornare al sistema di mobilità universale per definizione, che è il trasporto pubblico. Perché noi abbiamo un quarto delle linee metropolitane e dei treni pendolari per abitante rispetto a quelle che hanno i tedeschi e i francesi che sono pure più ricche di noi? Noi abbiamo più auto di loro. Abbiamo la bellezza di oltre 65 auto ogni 100 abitanti. Se andate nelle grandi città d'Europa questa percentuale si dimezza, diventano 30 auto. Perché? Perché si va in autobus, in treno, in metropolitana, in tram o piuttosto si noleggia. Si fa la sharing mobility e si noleggia dall'auto fino al monopattino. Perché? Perché le strade vengono ridisegnate per poter andare anche in bicicletta piuttosto che in monopattino. Lei faceva vedere prima le strade di Roma con tutti i monopattini posteggiati sul ciappiede, ma io le posso far vedere anche delle stesse strade con le biciclette legate ai pali. Ma perché? Io ho sempre girato anche in bicicletta, non ho mai avuto un parcheggio in città. Perché le auto hanno diritto ad avere il parcheggio mentre le biciclette no? Io sono costretto a legare la bicicletta al palo, altrimenti me la rubano. Non ho nessuna alternativa. Ecco, dobbiamo cominciare a fare quello che si fa nelle città. Diciamo che ci sono nelle città di Made o nelle città magari di Emilia, parma su tutti un po' chiamata la Pechino d'Italia per quanto riguarda la mobilità in bici. Ne do un altro caso, tra l'altro di una città governata dal centro-est per dirle che non è né di destra né di sinistra, Olbia, ha deciso di diventare e trasformare tutte le sue strade a massima velocità 30 all'ora. Perché? Perché tanto più di 30 all'ora mediamente città non si riesce ad andare e andando tutti più piano si favorisce anche la mobilità fatta con i mezzi leggeri, i scooter elettrici piuttosto che le biciclette, piuttosto che appunto i monopatting. Si aiuta la città dei bambini perché se sono più sicure si riesce andare anche a piedi con i bambini e non accompagnarli tutti con il SUV fino dentro alle classi delle nostre scuole per sicurezza. Oppure le do un altro caso, a proposito di centro-destra sempre, la città di Genova ha deciso di potenziare i mezzi pubblici appunto di renderli in certe fasce orarie, metropolitana nuova, persino gratuita pur di cercare di invitare la propria popolazione a usare meno automobili e nel caso di Genova moto e scooter vecchi e inquinanti e utilizzare di più i mezzi pubblici. Guardi, le dico una cosa, noi viviamo a Roma, è una città molto problematica su questo, io dico sempre che i romani hanno dentro un gene che si chiama traffico perché come le grandi città da tanti milioni di abitanti questo anno, le flotte si cambiano dei bus come giustamente diceva lei, adesso proprio Gualtieri, il sindaco qualche settimana fa ha detto che grazie ai soldi che arriveranno del Giubileo, di Roma Caputmundi e anche di quello che sarà il nuovo Expo, arriveranno tutta una mole di soldi che permetteranno di fare degli aggiustamenti e miglioramenti, ce lo auguriamo noi, soprattutto sui treni anche della metropolitana, però io le dico una cosa Poggio, siamo sempre lì, puoi anche cambiare con un lavoro in mane, puoi cambiare i treni, le rotaie, sono da decine di anni, ma se non riesci a fare un'altra linea della metropolitana ci facciamo ben poco con i treni nuovi, sicuramente migliorano alla qualità soprattutto d'estate perché la linea B ancora non è dotata di aria condizionata ed è incredibile, i treni o meglio, quindi ben vengono i nuovi treni, però se ci mettiamo 30 anni, 40 anni per fare una nuova linea della metro, insomma siamo veramente messi male, mi introduce il discorso con i 30 km orari in città e in Germania già lo fanno e ne so qualcosa perché insomma ho pagato un po' le conseguenze perché non siamo abituati noi italiani ad andare a 30 in città, le dico sinceramente, ma anche questo è un discorso di abitudine, come è stato quello della cinta o del casco, alla fine la politica deve prevalere, deve battere con le leggi, deve farsi sentire e possiamo noi cambiare le nostre abitudini. Andiamo a vedere il servizio con proprio il Presidente dei Cambienti Stefano Ciafani. Beh, un rapporto che racconta come l'uso delle due ruote è sempre più importante, c'è un trend in forte crescita che è stato causato purtroppo dal dramma del Covid-19, ma nonostante l'allentamento fortunatamente della morsa sanitaria, ormai i cittadini del nostro paese hanno capito che ci si può muovere sulle due ruote in maniera più semplice rispetto al passato, questo da una parte anche perché c'è la nuova tecnologia, penso alle biciclette pedalate assistite che garantiscono a tutti di poter utilizzare questi mezzi, anche in città dove non è così semplice prenderli. E dall'altra parte i comuni che attrezzano sempre di più la città per muoversi più in sicurezza, penso alle piste ciclabili, penso alle città che hanno adottato le zone a 30 km orari, questo rende più semplice la scelta dei cittadini a utilizzare questo mezzo che permette da una parte di decongestionare il traffico, dall'altra parte di muoversi più velocemente rispetto all'immobilità delle strade che sono piene di automobili in vola e dall'altra parte dare un contributo fattivo rispetto all'uso dei combustibili fossili e quindi un'azione concreta per la crisi climatica. Poggio, ci ha introdotto anche il discorso delle caldaie perché sappiamo che gran parte dei problemi e delle emissioni di CO2, quindi dell'area respirabile, dell'inquinamento è dato dalle auto, ma gran parte di questa percentuale è data dalle emissioni delle nostre caldaie, termosifoni e riscaldamento. È sempre l'Ecambiente che dice stop all'installazione di nuove caldaie alimentate a fossili entro il 2025 e parte la campagna di informazione itinerante per decarbonizzare sistemi di riscaldamento o raffrescamento responsabili quasi del 18% delle emissioni di CO2 in Italia. Caldaie a gas persi da museo e quindi promossa questa campagna dell'Ecambiente sviluppata, ricordo, con il Chioto Club per spostare i sussidi per legatari a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili e qua insomma lo stiamo dicendo veramente tanto e tanto tempo con le rinnovabili. Sapete che io a casa mia non ho più il contatore del gas, ne posso benissimo fare a meno, la cucina è con elettrica a induzione, quindi un sistema elettrico che fa risparmiare energia, la pompa di calore mi governa la temperatura dell'aria in casa e così posso fare anche il riscaldamento. Certo non è una tecnologia facile per chi non l'ha mai installata, c'è un problema di riconversione del settore, chi ti propone ancora la caldaietta a gas è quel artigiano, quel lavoratore che ha sempre installato delle cose che avevano a che fare con l'idraulica, passare alla pompa di calore bisogna avere delle competenze anche di carattere elettrico, è più l'elettricista spesso che fa queste cose, ma in realtà ormai anche le caldaie a gas hanno una parte, una componente elettrica ed elettronica e quindi ci vuole una capacità nuova. Chi sa fare... Tecnologia rinnovabile, rete elettrica... No, prego, prego. ...si pianti lo può fare in maniera ottimale anche con grande soddisfazione. Io insieme alla pompa di calore ho anche i pannelli solari e le assicuro che sono felice come una pasta, soprattutto nell'ultimo anno che mi sono risparmiato la bolletta del gas completamente e ho avuto una bolletta elettrica molto contenuta. Questo non è il futuro, questo è il presente, io sono assolutamente d'accordo con lei, c'è stata anche una ricerca proprio nelle ultime settimane che abbiamo dato qui come anche il gas, quindi le emissioni di gas possano influenzare in maniera negativa sugli asmatici, soprattutto sui bambini, sono aumentati molti casi anche di asmatici proprio con i combustibili fossili, quindi in questo caso con l'aria che viene bruciata dal gas. Quindi attenzione perché tutte queste notizie oggi si hanno e a dircele proprio qui c'è stato anche il presidente di Sima che è la società italiana medicina ambiente. Quindi insomma facciamo anche informazione e poi ecco anche la bolletta come ha detto Andrea Poggio ne risente in senso positivo, i benefici vengono anche dal portafogli, non solo per la salute. Bene, Andrea Poggio grazie, buona serata, sempre disponibile, alla prossima. Arrivederci e buona serata a tutti. Grazie responsabile mobilità di Lega Ambiente, noi ci vediamo qualche istante e andiamo in pausa. Eccoci tornati per quanto riguarda il discorso dell'automotive, un comparto che ne risentirà, ne parleremo anche nelle prossime puntate. Ci colleghiamo direttamente da Bruxelles, con Bruxelles, dove abbiamo Stefano Felicianne che è assistente europarlamentare. Stefano buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora grazie per aver accettato il nostro invito, insomma tu sei uno di quelli più attivi su ne iscrivere appunto emendamenti anche per questi europarlamentari, quindi presentare al Parlamento appunto delle proposte, ricordiamo che possono emendare i vari parlamentari, al contrario di quello che sono anche i governi nazionali. Ora Stefano, la situazione, visto che abbiamo parlato nella prima parte dell'automotive, quando ci siamo incontrati appunto la scorsa settimana a Bruxelles tu dicevi che un po' il comparto dell'automotive, diciamo, non dico che si è fatto in finocchiare, però ha subito quello che è stato queste direttive imposte dall'Unione Europea. Ecco, secondo te che hai un po' contezza la situazione, ovviamente non sei un tecnico, non fai parte dell'automotive, ma hai un po' il sentore, visto che parli anche con tante associazioni di categoria senti anche più campane. Ecco, porterà cosa? Sicuramente un cambiamento nelle nostre abitudini, un cambiamento anche nella produzione di auto. Ecco, come possiamo secondo te vedere anche da cittadino europeo, tu che vivi da tanti anni anche a Bruxelles e lavori al Parlamento europeo, come possiamo vedere questo cambiamento che da 2035 non verranno più prodotti motori endotermici? Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti e grazie mille dell'invito. Io ovviamente devo specificare che lavoro per un'istituzione europea, tutte le opinioni e le idee che questa sera diremo sono ovviamente a mio titolo assolutamente personale, non impegnano nell'Unione Europea, nell'istituzione per la quale lavoro, che specificamente il Parlamento europeo. Questo è un disclaimer che dobbiamo sempre fare. Allora, secondo me le riflessioni corrette che tu fai sulla questione automotive, ma come su altre normative che l'Unione Europea sta intraprendendo, impatteranno, innanzitutto impatteranno in materia di tempi, perché il 2035 a noi sembra molto lontano se pensiamo a chi fa, non so, un'università, uno studente, ma per un ciclo industriale, 2035 è domani. Pensiamo, ogni ascoltatore di noi quanti anni tiene una macchina? Non è che la tiene sei mesi e poi la mette via come una giacca del fast fashion, ecco. Quindi cambiare i procedimenti industriali chiederà molto tempo. Se uno deve passare da cambiare una linea produttiva che fa un motore a benzina, a visero, quello che volete, a un motore elettrico che è fatto in maniera completamente diversa, questo cambierà molto. Cambierà molto gli operatori, adesso vediamo una stazione di ricarica, cambierà molto tutta la rete di distribuzione. Cambierà molto anche il fatto che dobbiamo capire, se ci spostiamo sul full electric, dove troviamo tutta la corrente elettrica per alimentare le macchine? Perché naturalmente se noi attacchiamo tutti gli elettrodomestici di casa allo stesso tempo è molto probabile che ci salta la corrente elettrica a casa. Allora, questo senza fare valutazioni che siano positive, negative, quelle magari le vediamo dopo. Il fatto è che sarà un cambiamento radicale e dobbiamo essere sicuri che quando uno fa un cambiamento è sicuro della tecnologia con la quale va di fronte. Io mi ricordo, per chiudere, che qualche anno fa veniva detto sui telefoni che il WAP era il futuro di internet sul telefono. Fu una tecnologia che tutti cercavano di vendere e che non funzionò. Quindi bisogna stare attenti quando si vuole affrontare un salto tecnologico così grosso, ad avere le cosette spalle coperte e una capacità industriale e tecnologica di reggere questi grandi cambiamenti. Senti, ma i cambiamenti saranno anche politici e delle varie aziende, leader magari in Italia, in Francia, i cambiamenti dovranno essere fatti anche da loro? Sicuramente sì, perché poi il problema è che naturalmente noi possiamo chiedere un cambiamento imposto con una normativa. Cioè la normativa dice bene, dal 2035 stoppa le vendite delle macchine endotermiche. Il problema è capire poi quali sono i costi che affronteranno i cittadini, tutti noi, e le imprese in questo tipo di cosa. Perché per noi, cittadini, ci si può limitare a optare a comprare una macchina elettrica invece che una macchina, come dire, endotermica. Il problema è per un'impresa. Se un'impresa ha sempre fatto motori endotermici, fare motori elettrici è tutto un altro sistema. Da quello che mi hanno detto diverse persone, sono anche dei motori più semplici come costruzione. E tutta, ovviamente non c'è solo la Fiat, dico un esempio, una Fiat o un'altra impresa che le fa, ma c'è tutta la filiera. Chi fa gli alberi a camme, chi fa le valvole, chi fa i pistoni. Tutte queste persone dove andranno? Tutte queste fabbriche dove andranno? Tutti i lavoratori che sono lì. Ma lì sono un cinquantenne che è esperto di produzione di pistoni. Il gruppo di questo tema difficilmente diventerà un imprenditore digitale il giorno dopo. Quindi, ecco, c'è un aspetto di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità, chiamiamola, sociale in senso lato. Non solo lavorativa, ma anche poco sociale. Senti, con te voglio toccare anche altri temi. Poi dopo, visto che hai una capacità di spaziare e sei in una commissione molto delicata, quella appunto dell'ambiente e della sanità, appunto al Parlamento europeo. Ti occupi anche di queste tematiche. Un'altra tematica delicata è quello che sta avvenendo fuori anche delle case green. Allora, se per il 2035 hai detto che è un tempo molto breve, figuriamoci nel 2030. È qualcosa veramente di incredibile. Sono tempi strettissimi, quasi impossibili. Allora, prima di darti la parola, vediamo insieme questo servizio sulle case green, come cambia e come cambierà anche il nostro efficientamento energetico. Prego. Entro il 2030 le emissioni delle case dovranno essere più basse. Lo prevede la proposta di direttiva europea in linea con la politica ambientale Fit for 55, che punta alla riduzione al 55% della CO2 tra sette anni. Una direttiva che è ancora sotto forma di proposta, ma che non piace al governo italiano. La direttiva che prevede il passaggio alla classe e per tutti gli immobili residenziali entro il 2030 potrebbe costare alle tasche dei cittadini fino a 59 miliardi di euro l'anno, quasi tre punti percentuali di pilla. La svolta dell'Europa sulle emissioni sembra poter risparmiare alcune tipologie di immobili, come gli edifici storici e quelli con consumi complessivi durante l'anno molto limitati. L'elenco delle case escluse dalla direttiva dell'Unione Europea è però ancora incerto. La stretta di Bruxelles specifica che entro dieci anni tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica e poi, dopo altri tre anni, nel 2033, sarà necessario un altro scatto e arrivare alla classe D. Tra il 2040 e il 2050, invece, l'obiettivo è quello di raggiungere le emissioni zero. Ciò significa che gli edifici dovranno consumare poca energia, essere alimentati per quanto possibile da fonti rinnovabili e non dovranno emettere in loco emissioni di carbonio da combustibili fossili, ha spiegato l'Unione Europea. Secondo un'indagine commissionata da Confindustria Asso Immobiliare, il 56% di coloro che hanno intenzione di acquistare una casa dichiara di voler abitazioni di classe A contro un 26% contrario e un 19% che non si pronuncia. Secondo l'associazione, però, il Parco Italiano non si presenterebbe a operazioni di baguillage. Occorre, spiega Rovere, sostituire il patrimonio immobilare esistente con nuove costruzioni ed altre prestazioni energetiche. Ma come? In tutte le città ci sono interi quartieri con costruzioni obsolete, degradate, insicure e certamente prive di qualsiasi valore storico architettonico, che andrebbero demolite e ricostruite secondo i più elevati standard di efficienza energetica, sismica e tecnologica. Ecco Stefano, i fatti di corona che ci riportano a dirà del terremoto in Turchia, comunque anche lì sono stati inquisiti e arrestati tante persone che hanno costruito questi impianti non a norma, per non parlare della Siria, che lì la situazione è completamente diversa con i campi anche molti dei profughi. Però ci si preoccupa anche di questo, di ricostruire degli impianti o meglio delle case anche antisismiche. Ma questo è un discorso che viene è parallelo. Oggi quello che ci dice l'Europa è appunto di cambiare anche tutto il nostro sistema energetico all'interno delle abitazioni perché i riscaldamenti sono inquinanti più delle auto. Ora i tempi sono strettissimi, quasi impossibili secondo te, vero? Io darei una risposta per tabulas, cioè noi prendiamo in mano la normativa che ripeto come giustamente diceva Servizio adesso il Parlamento europeo la votata nella Commissione Industria, adesso dovrà essere votata nella Commissione Plenaria, in sessione plenaria scusatemi, e poi andare a un negoziato interistituzionale con le altre istituzioni dell'Unione Europea per arrivare a un testo finale. Il problema è che certe scadenze sono molto ravvicinate, 2027-2030 per esempio per gli immobili pubblici, per migliorare le classi energetiche degli immobili pubblici, è un problema strutturale. Pensate quanti immobili pubblici abbiamo noi, tutti noi magari abbiamo figli che vanno nelle scuole, nella mia scuola superiore in Trieste dove io ho studiato ormai 20 anni fa e ci sono ancora problemi con le scale che non sono accessibili ai disabili o magari le aveva cambiate nel frattempo, ma insomma sono un sacco di problemi strutturali. Figuratevi tutto il resto, quindi non è che io penso che nessuna persona, come anche questa indagine dice, tutti sono favorevoli da avere case con impatto energetico più basso e quindi con inquinamento più basso. Su questo non vedo a chi piace vivere in un ambiente inquinato e con neanche la persona ideologicamente più convinta. Il problema sono le tempistiche e capire con che costi e soprattutto, perdonatemi, chi paga tutta questa transizione qui. Queste sono domande che mi faccio prima ancora come persona che ha seguito questo dossier e come semplice cittadino, perché a me farebbe sicuramente piacere di avere una casa che inquina di meno e che consuma di meno così pago anche meno di bolletta, però voi sapete bene che per passare da una classe energetica o un'altra, non è che basta cambiare un infisso oppure usare meno la... cioè per passare da una classe D a una classe C, magari i costi sono esponenziali. O magari fare, banalizzo, la lavastoviglie di notte. Sì, cioè non è... è una tipica più... cioè penso che è una combinazione con tempi stretti, incertezze di fondi e a maggior ragione, magari anche lì abbiamo visto tutti mancanze di maestranze, materie prime che sono costate molto, che ha rifatto la casa in questi ultimi mesi rispetto a qualche anno fa, l'ha notato. Ecco, forse un po' più come dire di pianificazione temporale non farebbe male, secondo me. Sono d'accordo, noi abbiamo anche tutto un patrimonio artistico-culturale, di monumenti e soprattutto anche di palazzi di una certa data e lì sì, vabbè, si avrà, si ipotizzano, no? Una... diciamo, si evitano e si delimitano tutti questi palazzi e tutte queste opere d'arte. Ho capito, però? Poi tutto il resto? Oggi Le Gambiente ci dice che i sistemi di riscaldamento e raffrescamento sono responsabili del 18% in Italia delle emissioni di CO2. È tanta roba. Certo, beh, in realtà la gran parte dell'inquinamento urbano in realtà è fatto da riscaldamento urbano, non sicuramente dalle... certo ci sono sicuramente le macchine, i veicoli, ma la gran parte dell'inquinamento è fatto da riscaldamento urbano civile, cioè dalle case in cui abitiamo tutti noi. Dalle case. Con delle caldaglie veramente che abbiamo soprattutto qua in alcune parti del centro storico, delle caldaglie vetuste, anche questo fa parte, no? Sì, però come dicevi tu prima, il problema è che tu dici le esenzioni, i centri storici. Non so, i nostri ascoltatori avranno sicuramente in mente la piazza di Siena, la piazza del campo di Siena, una piazza che mi piace molto, io non sono senese, quindi non è che parteggio... Però vi faccio un esempio. La Torre del Mangio sicuramente è bellissima, la Torre del Mangio e il Palazzo Comunale sono meravigliosi. Allora a quelli lì sicuramente sarà difficile farci un cappotto o mettergli il tetto e i pannelli solari, però non è solamente quello lì. Se noi trasformiamo il Palazzo di Siena e lo lasciamo stare e tutta la piazza la trasformiamo, penso che probabilmente perda un po' di quell'atmosfera, come dire, magica che fa innamorare ogni persona che va a Siena. E quindi anche lì io voglio vedere se... cioè il Pantheon lo lasciamo com'è, per fare un esempio, ma il ristorante davanti gli mettiamo il cappotto e quindi lo facciamo trasformare da un edificio del 600-700 a un edificio moderno. E diciamo che lì sarebbe anche un po' complicato capire... allora se cominciano a esserci un po' troppe esenzioni, un po' troppe esenzioni, viene da chiedersi... cioè le norme sono fatte per essere applicate, le esenzioni devono essere puntuali, perché se tutti chiedono esenzioni poi è l'obiettivo finale, come diceva il vostro servizio, cioè la decarbonizzazione non la raggiungeremo mai. E allora, infatti Stefano ti chiedo, ma allora l'Italia che ha queste problematiche magari rispetto ad altri paesi, soprattutto quelli del nord, dove la situazione può essere anche migliore, sono anche più piccoli, meno popolazione, quindi hanno diciamo più a cuore queste tematiche, quindi da prima che lavorano, soprattutto ripeto, i paesi scandinavi, ora l'Italia cosa rischia? Multe? Allora dunque, c'è, è previsto nella normativa un paragrafo dedicato alle penalità, perché teoricamente gli stati, questa è una direttiva, quindi poi toccherà agli stati traspondere diciamo in normativa nazionale puntuale come arrivare alle varie scadenze. Certo sono previste delle penalità, dipenderà anche ogni stato come le metterà, però ecco io vedo, immagino, immagino che sarà difficile mettere come penalità al pagamento di 100 euro di multa, perché se no, come dire, è un po' aggirare l'obiettivo della normativa insomma, e anche perché poi si rischia la procedura di infrazione, l'Italia ne ha già aperta diverse altre. Poi c'è un'altra cosa, tu giustamente menzionai i paesi nordici che hanno popolazioni più piccole, patrimoni urbani magari meno storici dei nostri, ma l'Italia per esempio in molte cose è molto più avanzata, penso al riciclaggio di prodotti, riciclaggio degli imballaggi, l'Italia è più avanti dei target messi dalla normativa europea, quindi non è che necessariamente l'Italia debba sempre giocare a fare il flanello di coda o a trovare come dire il sistema di aggirare la norma, quando vogliamo le cose le possiamo fare, ma bisogna che ci sia un framework per farlo, non sicuramente la bacchetta magica, e i tempi accelerati non aiutano, secondo me non aiutano, ma anche molte associazioni con cui ho parlato. Guarda, ti dico con anche un pizzico d'orgoglio che abbiamo parlato anche nel corso della stagione, abbiamo parlato con un po' tutti anche i comparti e su tutto quello di Comieco, dove noi siamo molto virtuosi, Comieco è praticamente il consorzio numero uno della carta in Italia, noi siamo molto virtuosi, abbiamo il numero uno, addirittura la esportiamo la carta, cioè siamo talmente bravi che non solo soddisfiamo il nostro fabbisogno, ma riusciamo anche a andare oltre. Noi è un po' sull'umido e quindi dobbiamo creare più impianti, soprattutto più piccoli in tutte le città, qua c'è una questione a Roma sul termo valorizzatore che è un po' anche di riflesso vivrai con la politica che avviene, ecco c'è chi dice che è piccolo, c'è chi dice che ancora deve essere costruito ma già vecchio, c'è chi dice che ce ne vorrebbero altri due o tre per soddisfare i fabbisogni di Roma, abbiamo una delle tari più alte, l'abbiamo anche ospitato qui proprio l'assessore all'ambiente di Roma Capitale. Ci sono dei problemi sicuramente molto grandi, però io vedo che in altre città anche grandi capitali europei si fa una differenziata, anche qui la politica deve muovere. Allora ti chiedo, prima di passare al prossimo discorso, al prossimo argomento, ti chiedo ma quanto l'Unione Europea poi dà appunto delle linee guida, delle direttive cosiddette e quanto poi invece con altri emendamenti, altre direttive come queste praticamente delle cosiddette case green del 2035, lo stop di produzione dei motori endotermici, invece riesce a imporsi. Cioè dove noi possiamo avere e possiamo parlare di Europa, perché tu ormai la vivi, alcune cose, alcune materie, alcuni diciamo argomenti dati dalle commissioni sono sempre lasciati alle volontà di poter, ogni Stato membro di poter legiferare all'interno dei propri confini. In altri argomenti questo non è. E allora insomma un po' un quadro tu che vivi anche e lavori all'interno di quei palazzi poi. Ma quando io studiavo giurisprudenza tanti anni fa mi avevano insegnato in diritto poi in diritto costituzionale che le leggi danno l'indirizzo politico, quindi come tutte le cose, tutta la normativa che esce dall'Unione Europea è sempre un, non vorrei dire compromesso per un termine brutto, ma c'è un negoziato tra diverse posizioni e si arriva a una posizione finale, che magari alcune volte piace, altre volte piace meno e per questo esistono gruppi parlamentari diversi che votano in modo diverso. Il problema secondo me non è tanto che uno suggerisca una normativa più strana o meno strana, migliore o peggiore, il problema è quanto uno riesca a imporre la propria volontà e quindi come dire quanto nei negoziati, nelle attività, chiamiamolo anche di lobby in senso neutro, c'è anche nei colloqui che i deputati fanno, nelle attività che uno fa con i colleghi, quanto uno riesce a stare a seguire la normativa e riesce a imporsi. Io penso che in generale, e questo in generale lo vediamo per molte cose, a livello proprio di sistema senza poi entrare in critiche specifiche a nessuno, il fatto che noi negli ultimi cinque anni abbiamo cambiato tre governi, sicuramente non penso aiuti, come dire, un indirizzo stabile e politico e quindi legislativo delle nostre priorità nazionali, soprattutto se lo paragoniamo a, che ne so, l'era Merkel che invece ha governato vent'anni di fila, poi per carità l'Italia è una storia particolare, dico, ma molte volte penso che per avere, questi dossier sono che prendono tempi lunghi, non è che oggi si viene votato domani, sarà quattro anni che parliamo di edifici, quindi come dire... Infatti mi hai detto, io l'ho seguita da cinque anni che seguo la storia delle case green. Anche il diesel che dicevamo prima, sapete il diesel adesso è cattivo, perché? Perché quando c'è fu lo scandalo del diesel viene fatta una commissione temporanea che ha fatto un documento non legislativo e tutti, vabbè, non legislativo, è cartaccia. Sì, però dopo due o tre anni lo dice tutto male, tutto cattivo, arriva una normativa che dice il diesel è cattivo. Ma perché? E lui dice, ma abbiamo votato un documento due anni fa, tu non hai detto nulla e allora, cioè no, se io una settimana e ti dico che ti voglio invitare a cena per mangiare del pesce, non è che poi tu la sera arrivi e dici no, voglio la carne. Io l'ho comprato, ho andato al mercato, ho cercato il pesce, l'ho preparato gli ingredienti. Cioè, come dire, il problema è che in Italia molte volte siamo abituati a delle tempistiche magari più strette o più rapide che forse non sempre si fasano su quelle dell'Unione Europea. Senti, ti faccio, dacci un suggerimento qua come persona che ti sta a cuore questo argomento. Ma allora, uno va a comprare una macchina adesso, motore diesel o benzina che sia, che succede dopo il 2035? Cioè, infatti c'è una macchina che possono durare anche 15 anni. Cioè, vanno avanti quelle già in essere, c'è la produzione al 2035, fino a che poi dopo si porta fino a fine vita? Direi proprio, ci mancherebbe altro, cioè voglio vedere, mi mancherebbe altro che vada un obbligatore a metterlo a mare e tutto. Cioè, se uno cammina, per esempio, io sono di origine triestine, quando cammino per la mia città vedo il parco macchine, almeno quello del quartiere dove vivo io, a tutte le targhe dei primi anni 2000, cioè gente si è tenuta alla macchina per 20 anni, ma tendenzialmente più o meno 15-20 anni, questo è il tempo in cui uno tiene una macchina normalmente, per ammortizzare il costo, a meno che uno non abbia piacere di cambiarle più spesso. E ovviamente rimarranno, rimarranno infrastrutture, i carburanti, così. Il problema, per esempio, è un altro, che adesso si è fatto molto discutere i carburanti alternativi, che magari possono sostenibili, che possono abbassare le emissioni. Ma voi pensate a una grande impresa che fa carburanti. Perché dovrebbe investire in questo settore se poi si passa tutto all'elettrico? Perché investire in carburanti che inquinano di meno se domani si va solo all'elettrico? E tutta la rete dei benzinai, tutta la rete del... in questo sono tanti posti di lavoro, sono come dire... o meglio, tutte queste... va benissimo che quando si è passati dalle carrozze, dalle stazioni di posta alla macchina e le stazioni di posta con il cambio di cavalli non c'erano più, i mali scalchi hanno perso il lavoro. Ma in che direzione si va? Dove verranno messe tutte queste persone? Come si farà perché hai fatto questi investimenti? Perché qua parliamo di uno o due persone o di qualche ricco da colpire. Qua parliamo di chi... noi non ha una macchina, insomma, e nessuno va in macchina perché vuole inquinare. Nei in macchina perché magari a Roma e magari fai prima di andare in macchina che prende il treno da Tiburtina e andrà a Fiumicino. Esattamente. O magari in macchina fai prima di andare da Napoli a Bari, stai tre ore in bus e stai cinque ore in treno. Allora la gente va in bus non perché vuole inquinare, ma perché non ha alternative vali. Roma-Milano, stai in aereo perché c'è il treno. Senti Stefano, andiamo a vedere quest'altro servizio, così poi abbiamo due minuti, lo commentiamo insieme. Ascoltalo bene perché parla di gas e anche di nucleare. Ah bello. Tecnologia rinnovabile, rete elettrica, macchine utensili e industria aeronautica. Diversi settori individuati nell'incontro tra il presidente azerbaigiano Ilam Aliyev e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che questa mattina hanno presenziato alla cerimonia per la posa della prima pietra della centrale di Minga Keir, in cui Ansaldo Energia realizzerà quattro turbine a gas da 320 megawatt, ciascuna per un importo di 160 milioni di euro, primo di una serie di progetti che riguarderà le imprese italiane del settore. Italia e Azerbaigian possono diventare un esempio, un modello nella partnership tra imprese europee e un popolo che sempre più guarda alla nostra Europa. Lo ha detto Urso, fiducioso in un'intervista al messaggero, dove è dichiarato, prima di partire per la missione azerbaigiana, che entro quest'anno l'Italia potrà affrancarsi dalla Russia a fronte del 40% di gas che acquistava da Mosca nel 2021 e del 16% registrato lo scorso anno. L'obiettivo è quello di fornire anche altri paesi ed in poco tempo diventare l'hub del gas europeo. Sul fronte ai carburanti, con il nuovo decreto, il governo ha creato le condizioni per maggiore trasparenza e salvaguardare gli automobilisti. I prezzi sono in progressiva diminuzione, continua Urso. Le sanzioni non hanno avuto impatto sui consumatori e attualmente il prezzo industriale dei carburanti in Italia è più basso di Spagna, Francia e Germania. E intanto la Commissione europea ha proposto due atti delegati per definire l'idrogeno rinnovabile nell'Unione. L'idrogeno prodotto con l'energia nucleare potrà essere considerato rinnovabile ai sensi delle regole europee, ma solo a determinate condizioni. Il testo assegna l'etichetta verde a tutto l'idrogeno prodotto con un elettrolizzatore, direttamente connesso a una nuova fonte elettrica rinnovabile, ovvero a un'infrastruttura aggiuntiva rispetto a quella attualmente in funzione. La scelta mira a incoraggiare la diffusione di energie rinnovabili senza creare un monopolio di produzione attraverso le infrastrutture esistenti. Si prevede che la produzione di idrogeno andrà aumentando nei prossimi anni e si stima in 500-550 teravattora di energia elettrica da fonti rinnovabili il fabbisogno necessario per centrare gli obiettivi del Repower EU per il 2030, di produrre almeno 10 milioni di tonnellate di carburanti rinnovabili di origine non biologica. Gli atti adottati oggi saranno ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di due mesi di tempo per esaminarli e accettarli o respingerli. Stefano, hai un minuto e mezzo per commentare questo servizio? Beh, è fantastico. Purtroppo, come dire, sono temi avvincenti. Non seguo direttamente i temati gas, però vi posso dire una cosa telegrafica. Mi sembra che nel breve periodo, breve medio periodo, sostituire fonti fossili sarà molto difficile. Quindi tutto quello che noi troviamo che consuma, inquina di meno gas, inquina meno del carbone, per esempio, è meglio perché comunque ci fa abbassare le nostre emissioni. Seconda battuta telegrafica sull'idrogeno verde fatto col nucleare. Lì dicevamo prima, c'è chi sa imporre le proprie necessità. Io penso che una spinta sull'idrogeno fatto al nucleare non sarà venuta dal governo italiano che il nucleare non lo ha. Sarà venuta qualche altro governo che il nucleare lo ha. Allora, se qualcuno è capace di fare lobby così per i propri interessi in Unione Europea, penso che dovremmo farlo anche noi. Grazie Stefano, sei stato molto preciso e hai fatto capire tanto. Ho un'intenditor poche parole, ho capito. Hai fatto capire molto. Stefano ti ringrazio, buon lavoro su Bruxelles. Scusatemi, l'abbigliamento fa freddo da noi qui, quindi buona giornata a tutti. Copriti bene, veramente. Grazie. Stefano Felician, assistente aeroparlamentare tra Bruxelles e Strasburgo dove anche in questi giorni si va verso la plenaria. Vi volevo in chiusura leggere questa notizia. Traffico di rifiuti, riciclaggio in Europa, arresti e sequestri. L'indagine riguarda Lombardia, Piemonte, Calabria e anche la Germania. Disposto il sequestro di 90 milioni di euro. I soldi riciclati erano reinvestiti anche in quote di una società di calcio. Poi approfondiremo bene il discorso. Il nucleo operativo ecologico di Milano, periodo in materia di traffico di rifiuti illeciti in vari paesi, con in giro anche di false fatturazioni di attività di riciclaggio, sta conducendo delle indagini. Ovviamente quello a cui si riferiva anche Stefano Felician è un discorso relativo anche alla Francia, che ovviamente sta spingendo tanto sul nucleare, anche in virtù delle ultime notizie apparse sui giornali e nei DG anche di questi giorni, dove praticamente la produzione di energia elettrica attraverso anche lo sfruttamento dell'atomo, quindi energia nucleare. Bene, siamo alla conclusione anche di questa nostra puntata. Torneremo a parlare di Automotive, di Green, collegandoci anche con il Parlamento europeo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con Cusano Italia TV. Ciao!